Buon giovedì 10 febbraio. Gesù ha un momento di vita privata, si sottrae un po' alla folla, rimane nell'anonimato, un po' per sottrarsi anche a questo desiderio collettivo di toccarlo, di ascoltare, di essere sanati dal suo messaggio di salvezza, ma non passa inosservato, è in una casa dove viene ospitato un momento probabilmente di convivialità. Entra una donna che lo supplica, di sanare la propria bambina, figlioletta, posseduta da uno spirito impuro. E Gesù a questo punto risponde metaforicamente, non si può sottrarre il pane ai figli per darlo ai cagnolini. È una frase apparentemente molto enigmatica. Non sono un teologo e quindi molto probabilmente non sono neanche in grado di interpretare correttamente questa frase, ma dico quello che mi evoca, perché è nella risposta della donna che si coglie l'essenza di questo racconto. Una donna che con umiltà indica come i cagnolini possono anche nutrirsi delle briciole di quel pane che è destinato ai figli. Vi è pertanto una definizione di priorità che escono dalla dimensione gerarchica, prima i figli, poi i cagnolini e ricostruiscono una dinamica nella quale i cagnolini sotto la tavola e i figli, ai quali è destinato il pane, possono ugualmente nutrirsi, rimanendo ognuno nel proprio luogo armonizzando le loro presenze. Io in questo vedo il segno di una ricostruzione delle dinamiche relazionali all'insegna non di una sequenza temporale o di una gerarchia, ma di una circolarità relazionale. E infatti questa risposta della donna fa sì che Gesù riconosca in lei l'essenza umile di una fede che crede profondamente che sia possibile sanare quella figlia e che Gesù possa farlo. E che tutto questo accada in una dinamica che è profondamente ecologica, profondamente caratterizzata non da una gerarchia dei rapporti, ma da una interconnessione tra il pane e le briciole, tra i figli e i cagnolini. E Gesù con molta semplicità dice alla donna che sua figlia è sanata, dallo spirito impuro, perché lo spirito impuro è ciò che divide, è ciò che non riesce in nessun modo a stabilire una circolarità delle relazioni in funzione di una armonia che è intrisa profondamente nel messaggio evangelico dove tutto è interconnesso. Non c'è una elevazione dei cagnolini alla dimensione umana, ma c'è un grande rispetto dei cagnolini e al contempo anche un rispetto di una condizione umana che è radicalmente diversa, ma sono due biodiversità che si intrecciano profondamente, e allora sì, quello spirito impuro, quel senso gerarchico che noi abbiamo posto nell'esistenza, questa nostra indisponibilità ad accogliere il messaggio di salvezza, nell'armonia noi troviamo la possibilità di liberare quella bambina e ogni vivente dalla tentazione dello spirito impuro, quello che genera discriminazioni, distinzioni. Termine diavolo, il diabolico, è ciò che divide, quello che poi in realtà invece è sempre simbolicamente interconnesso. È una grande tentazione quella della divisione. Ecco, io vedo nel Vangelo di oggi questo richiamo forte a una umile fede che si dispone alla armonizzazione dei rapporti, alla armonia che genera bellezza, che genera guarigione da tanti errori che noi facciamo nella nostra esistenza. e Gesù coglie in quella donna questa umile fede che ciascuno di noi dovrebbe ogni giorno coltivare. Buona giornata a tutti.